Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme ai titoli di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, a tenere banco la vicenda del governo alle prese con l'approvazione del Messe e il baro del recovery plan, anche se la notizia del giorno e la scomparsa di Paolo Rossi, l'eroe dei mondiali del 1982 che con i suoi gol trascinò l'Italia alla vittoria del campionato del mondo e si è spento all'età di 64 anni per un lungo tumore. Veniamo ai titoli del Corriere della Sera che parla del sì al Messe, ma il governo vacilla, passa il nuovo salva stati, resta alta la tensione, Zingaretti serve più collegialità, la Lombardia da domenica è zona gialla, Renzi attacca, non votiamo questo recovery, ma Conte reagisce, non sto commissariando la politica. Leggiamo il richiamo, la maggioranza tiene il nuovo PES passa, ma il voto in Parlamento non allenta la tensione all'interno della coalizione che sostiene il governo e Conte resta in bilico. Il prossimo scoglio è il recovery fund e proprio su questo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca il Premier. Così com'è non lo voteremo mai. Rinviato il Consiglio dei Ministri sul fronte dell'emergenza Covid, ieri sono stati contati oltre 12 mila nuovi contagiati, in leggero calo, ma con meno tamponi effettuati e 499 morti. È risalito anche il tasso di positività che ha sfiorato l'11%. La Lombardia da domenica intanto diventa zona gialla. E poi vedete il fragile equilibrio e il commento alle vicende politiche di Antonio Polito. Proviamo a leggere, ci sono momenti che dicono più delle parole, per esempio quando Giuseppe Conte ha finito il suo intervento ieri mattina a Montecitorio senza che un vero e convinto applauso si levasse dall'aula. Il logorio della seconda ondata scava inevitabilmente un solco tra il governo e l'opinione pubblica, ma anche tra il governo e la sua base parlamentare. La guerra santa dei Cinque Stelle al MES si è fermata prima di sparare il colpo che avrebbe potuto far cadere il governo e con esso il Parlamento. E infatti si legge in Fabrizio Roncone che scrive dello spauracchio delle urne tra i corridoi del Senato il racconto e con Matteo Renzi che si prende tutta la scena. Poi ci sono tutte le misure del Natale con i chiarimenti del governo, anziani soli, quarantene, rimborsi, negozi e ristoranti aperti, tutto quello che si può fare fino al 15 gennaio dell'anno nuovo. E poi ancora le mascherine in regualo per proteggersi dal Covid e l'iniziativa del Corriere. E infine vedete questo titolo a centropagina con la fotografia Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale. Paolo Rossi, l'eroe che fece vincere la nazionale, il mondiale del 1982 in Spagna, è morto nella notte, era malato da tempo, nato a Prato nel 1956, ha vestito la maglia dell'Anerossi Vicenza, del Perugia, per poi esplodere nella Juve e nel Milan, ha chiuse la carriera nel Verona. Pablito, come venne soprannominato proprio nel 1982, quando vinse il pallone d'oro, ma soprattutto è ricordato per la tripletta al Brasile che ci portò Proia alla semifinale contro l'Argentina. Delirio gelosia è un caso, il marito assolto per il delitto, anche un fatto di cronaca, tiene banco sul Corriere. Passiamo alla Repubblica che invece titola sempre sulle fibrillazioni interne alla governo. Renzi, Conte, il grande duello, ora la crisi è più vicina. Il leader d'Italia Viva lo attacca sul recovery, va cambiato, se vuole poltrone, prenda quelle dei nostri ministri. Zingaretti, il governo risolva i nodi, si cerca la mediazione sul ruolo dei manager che gestiranno i fondi. Il Premier, con le polemiche l'Italia perde, ma sono pronto a trattare. Renzi attacca il Premier contestando il piano per il recovery. Va cambiato, se vuole le poltrone, prenda le nostre, quelle dei nostri ministri. Conte replica, con le polemiche perde l'Italia, ma anche il Partito Democratico chiede modifiche e si tratta sullo snodo dei manager che gestiranno i fondi europei. E poi ci sono le idee, il progetto del futuro parte già vecchio, se dimentichiamo i bambini e le donne. E poi i protagonisti, lo spariglio e la furbizia di Stefano Cappellini. Uno, Matteo Renzi, ha titolato il suo ultimo libro La mossa del cavallo, una civetteria sulla sua attitudine allo spariglio. L'altro, Giuseppe Conte, non è uscito in libreria, ma dello scavallo, passando in un click da Premier di un governo con Salvini a Premier federatore del nuovo centrosinistra, ha acquisito la laurea ad honorem. E chi ha permesso a Conte il salto? Renzi, aprendo a un ribaltone che pareva fantapolitica fino a poche ore prima. Ora il Presidente del Consiglio vuole restare dove lo ha messo l'ex rottamatore, che invece sta sempre più stretto nel ruolo di terzo incomodo della maggioranza giallorosso. E' davvero pronto a staccare la spina al governo? Tutto dice di sì. Lo farà davvero? Non è detto. Il duello con Conte è dall'esito imprevedibile, anche perché l'esperienza insegna che Renzi può iniziare una campagna tattica senza essere certo dello sbocco strategico e che la furbizia di Conte non va sottovalutata. E poi vedete a centropagina questa fotografia che ha fatto il giro del mondo con le lacrime della cancelliera Angela Merkel al Bundestag nel chiedere ai tedeschi di restare a casa dopo i 590 morti Covid di ieri. Per la Bild è stato il discorso più emotivo della sua carriera e se piange la Merkel ovviamente c'è davvero da tremare. Intanto a Londra allarme allergie da farmaco e Merkel si commuove per i morti tedeschi. Vaccino antivirus 3.000 medici da arruolare, scrive proprio Repubblica. E poi la vicenda che ieri ha fatto scalpore con i campioni del PSG e della squadra turca che si affrontavano in Coppa dei Campioni in Champions League che si sono inginocchiati al loro ingresso in campo per dire no al razzismo. Una vicenda davvero importante per il calcio che dà un segnale forte a tutto il mondo. E poi leggiamo anche il piccolo richiamo con i risultati di Champions di ieri con l'Atalanta che batte l'Ajax e passa al turno successivo della Champions. L'Inter invece pareggia ed è fuori ultima nel girone. E passiamo alla stampa che torna sulla vicenda ovviamente del governo con Conte. Vado avanti solo se c'è fiducia. Porto la task force in Parlamento. Intervista a Provenzano che attacca Renzi. Ora basta Ricatti. Via Libera di Camera e Senato alla riforma del MES alla vigilia del Consiglio europeo. Mai scontro sul recovery. Leggiamo ovviamente in prima. Conte incassa il sì sul MES alla vigilia del Consiglio europeo. Mai scontro sul recovery. Il Presidente del Consiglio. Vado avanti solo se c'è fiducia. Porto la task force in Parlamento. In una intervista alla stampa il Ministro del Sud Provenzano attacca Renzi. Basta rinvii Ricatti e Ultimatum. Non siamo disposti a farci rosolare. Ma il capogruppo d'Italia Viva Laboschi resta alta la pressione sull'esecutivo. Laboschi dice il Premier mi interessa di più il destino dei medici. E poi vedete l'analisi di Marcello sorgi maggioranza. L'apocalisse è rinviata. Capo di governo fragile ma anche insostituibile scrive proprio l'editorialista. Ai tempi della Prima Repubblica, quando i governi duravano mediamente 8-10 mesi, c'era un giochino in voga tra i vecchi cronisti parlamentari. A metà strada, 5-6 mesi, si appostavano nel transatlantico o nei corridoi e a ogni deputato senatore che passava, ponevano la stessa domanda. È cotto? Così, senza neppure spiegare a chi si riferivano, tanto l'umore prevalente di peones e aspiranti ministri e sottosegretari era lo stesso. Non ce n'era uno che rispondesse di no. Un sondaggio del genere, niente di scientifico per carità, riferito a Conte, darebbe senz'altro lo stesso risponso. Pur avendo dimostrato una grande capacità di resistenza anche in questi ultimi mesi difficili della seconda ondata della pandemia, il Premier, indubbiamente, è cotto a puntino. Se mancava una prova per dimostrarlo, basterebbe considerare che di fronte ad un attacco frontale come quello che gli ha rivolto negli ultimi giorni Renzi, reiterandolo ieri nell'aula di Palazzo Madama, non una sola parola di solidarietà si è levata in suo aiuto da Zingaretti o Di Maio, Speranza, i quali forse non condividono i modi del leader di Italia Viva, ma la sostanza sì. Perché allora di fronte ad un'ennesima apocalisse annunciata, il Governo ieri ha ottenuto la maggioranza alla Camera e al Senato, comprensiva di voti dei parlamentari renziani, e Conte potrà oggi presentarsi a Bruxelles come se nulla fosse con in tasca l'approvazione della controversa riforma del MES, è questo il quesito posto proprio da Sorgi. E intanto il leader di Forza Italia, Berlusconi dico no al Salva Stati, aiuta le banche tedesche. E poi la nostra guerra al virus del futuro, l'ONU lancia l'allarme sui nuovi focolai. La notizia che l'ONU ha dichiarato il 27 dicembre, giornata internazionale di preparazione all'epidemia, non ha suscitato l'attenzione che avrebbe meritato. E ne sentiremo sicuramente delle belle nei prossimi giorni. E vediamo anche alla sentenza se il femminicidio è delirio di gelosia, la vicenda dell'uomo di 80 anni che ha ucciso la moglie di 62 anni. Ed è stato giudicato incapace di intendere di volere in quel momento proprio per una sorta di delirio di gelosia. Poi naturalmente si cercherà di capire nelle motivazioni della sentenza a cosa si riferisse questa terminologia. E passiamo all'avvenire. Il giornale dei Vescovi italiani che parla del vaccino prova d'umanità. Nel Regno Unito viene bloccata la somministrazione alle persone con allergie. In Italia calano i contagi e i decessi. Ieri 499 a fronte però del minor numero di tamponi. all'arme delle organizzazioni non governative. Nel 2021 sarà possibile immunizzare solo il 10% dei cittadini dei paesi poveri. Il nodo dei brevetti e l'impegno dell'Europa a condividere i farmaci. L'appello del Papa sia universale. Proviamo a leggere Paolo Alfieri. Mentre i paesi ricchi fanno il conto alla rovescia per l'avvio della campagna di immunizzazione contro il coronavirus, miliardi di persone nel sud del mondo rischiano di non riuscire a vaccinarsi nelmeno nel 2021. Un rapporto redatto dalle organizzazioni della People's Vaccine Alliance evidenza che mentre i paesi ricchi si sono già assicurati dosi pari a tre volte quelle della loro popolazione, per la campagna del prossimo anno in 67 paesi poveri solo una persona su 10 potrà accedere alla somministrazione. Intanto sul fronte sanitario la Gran Bretagna ha deciso di fermare la procedura per le persone che abbiano progressi di forti allergie o intolleranze, mentre in Germania Angela Merkel, preoccupata per la situazione, chiede un lockdown molto severo anche nel periodo natalizio. Didattica a distanza, così 70.000 disabili sono rimasti esclusi. Tra i dimenticati dalla didattica a distanza, un posto di rilievo spetta a loro, malgrado, ai quasi 300.000 alunni disabili. Circa un quarto non ha mai preso parte alle lezioni online tra aprile e giugno. Stiamo parlando di oltre 70.000 bambini e ragazzi, più del 23% del totale degli studenti disabili, per i quali la scuola ha fallito l'obiettivo della socializzazione, che una scuola inclusiva si pone ancora prima dell'apprendimento, scrive l'Istat. E poi vedete al centro pagina la vicenda delle spose bambine alle persecuzioni contro i cristiani, le storie emblematiche, scossa civile per superare l'indifferenza sui migranti e l'aborto, il vero veleno e ignorare la vita nascente. E infine, il caso Egitto, quelle libertà da difendere pure dagli affari. Un riferimento alla pagina politica Conte supera la prova compromesso con l'Unione Europea per Ungheria e Polonia. E poi vediamo un passaggio dell'editoriale per salvarci davvero, scrive Marco Tarquinio, scongiurare la disuguaglianza vaccinale. Abbiamo imparato a dirlo che nessuno si salva da solo, non a farlo per davvero. Anche se la forza elementare e letale del nuovo coronavirus è servita a ricordarci una verità dimenticata, la malattia dei miei simili è la mia. Io sono vulnerabile finché l'umanità resta vulnerabile. Tuttavia, persino sotto i colpi di El Maglio che il Covid sta assestando al vecchio iniquo sistema globale, non facciamo ciò che diciamo, o nella migliore delle ipotesi, lo facciamo con comodo, non secondo umanità, ragione e giustizia. Oxfarm ieri ci ha messo davanti agli occhi di questa realtà con la forza dei dati. I vaccini stanno arrivando, ma nel sud del pianeta, nel 2021, solo uno su dieci verrà immunizzato. Un terribile male per gli esseri umani più poveri e un male per il mondo, perché fin quando nel mondo ci saranno paura, dolore e morte, la pandemia e le paralisi che provoca non saranno finite. È questo il male che cercavano di scongiurare gli appelli alla destinazione universale dei rimedi antipandemia di Papa Francesco e del segretario generale ONU Antonio Guitérrez, un male contro cui si è organizzata la mobilitazione per vaccini e farmaci beni comuni, annunciata da Nicoletta Dentico e Silvio Garattini, su queste pagine il 17 novembre scorso. Un male di cui un gruppo di paesi dell'Unione Europea, Germania, Francia, Italia, in prima fila, si è dimostrato consapevole investendo somme ingenti a sostegno della ricerca anti-Covid e prendendo solenne impegno alla condivisione dei risultati. Un male che l'alleanza di ricerca e produzione tra Oxford, AstraZeneca e Advent IRBM, si è impegnata ad affrontare destinando quasi due terzi delle dosi di vaccino a paesi in via di sviluppo. Già, ma nonostante il mondo non possa dire di non sapere, il 2021 sarà ugualmente l'anno di un'ulteriore vertiginosa ingiustizia, la disuguaglianza vaccinale. E per di più rischiamo di vedere il triste spettacolo di piccole, si spera, porzioni di popolazione che nel nord ricco rifiutano il vaccino tirandosi addosso a riflettori e malumori e al tempo stesso di miliardi di persone del sud povero che vorrebbero, ma non possono essere vaccinate. Una vicenda ovviamente paradossale, ma soprattutto assurda e non umana. E veniamo al Sole 24 Ore, che si occupa delle vicende economiche con il cashback in panne, ristori IMSS a ostacoli. Proviamo a leggere il richiamo. Partenza in salita per il cashback, regole complesse per i ristori IMSS, tanto che sul primo fronte solo in queste ultime ore forse il quadro si sta schiarendo, mentre le regole difficili potrebbero, nel secondo ambito, mettere a rischio la riuscita dell'operazione indennità destinate, per esempio, ai lavoratori stagionali intermittenti e ai venditori porta a porta. Per quel che riguarda il cashback, si sono riscontrate ancora difficoltà per la registrazione delle carte di credito sull'app Io. Sono state superate le difficoltà per Pago Bancomat. Sono oltre 8,2 milioni coloro che hanno scaricato la app Io e 2,8 milioni cittadini che si sono iscritti al programma che attraverso altri operatori privati. Per quel che riguarda i ristori IMSS il quadro è complicato, per esempio dall'intreccio fra le scadenze per le domande a seconda dei mesi di spettanza e requisiti previsti per avere diritto al beneficio. E poi vedete la pagina politica Recovery Planning, Stallo, MES, Conte al vertice dell'Unione Europea con l'ok alla riforma, uno spiraglio sul negoziato europeo. E poi vedete anche questo richiamo sui mutui il riscatto dell'Italia, tassi inferiori alla media comunitaria. Il tasso dei nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni praticato in Italia non solo è ai minimi storici, ma nel 2019 è anche sceso nuovamente al di sotto della media dei principali dieci paesi europei che rappresentano oltre il 90% del valore complessivo del mercato continentale, un segnale significativo che non si presentava dal terzo trimestre del 2011. E poi ancora vediamo quella patrimoniale travestita da Imu e Bolli, un'altra vicenda che tiene banco. Vediamo ai giornali di carattere regionale, cominciando dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Puglia e Basilicata, che scrive Conte e Salvo, Marenzi non cede, passa la riforma del MERS, ma il leader di Italia Viva chiede investimenti doppi per la sanità, nella maggioranza la grana del recovery fund. Covid, pirati informatici attaccano l'EMA, l'organizzazione che si occupa proprio di validare i farmaci, e rubano documenti sul vaccino Pfizer. Puglia aumentano i tamponi, Basilicata, scuole riaperte, test a tutti gli studenti. E poi la vicenda pugliese che riguarda l'ex Ilva. Conte vuole partecipare al tavolo congiunto che mette insieme Regione, Comune e Governo. Ma i sindaci nel Tarantino consegnano le fasce al prefetto Slitte, il tavolo chiesto proprio dalla Regione. Poi vedete sulla sinistra la nostra sfida per la Gazzetta, con il Sud sempre in testa. Parlano i nuovi editori, Sebastiano e Vito Dattoli, che nelle scorse settimane hanno rilevato proprio il giornale pugliese. Policlinico senza vertici, Bari, sospesi tre dirigenti, Dattoli, commissario, Vito Dattoli che è anche il commissario, il direttore generale di Foggia. E passiamo al messaggero. Il messaggero che scrive, Roma è la beffa del recovery. Scompare il progetto importante per la città che Conte aveva promesso due mesi fa. Confermato solo il collegamento ferroviario con Pescara. Al turismo 3 miliardi su 196. E vedete il richiamo. Beffa, recovery plan, niente fondi per la capitale. Eppure Conte aveva pronunciato parole che lasciavano poco spazio alle interpretazioni. Nel recovery plan, aveva detto, ci sarà un progetto importante anche per Roma. Scompare il progetto importante per la città che Conte aveva promesso due mesi fa. Confermato solo il collegamento ferroviario con Pescara. Al turismo soltanto 3 miliardi di euro su 196 complessivi proprio del recovery plan. La scelta irrazionale di ignorare la capitale. Gli impegni traditi Gianfranco Viesti scrive, si può disegnare un progetto per l'intero paese senza definire una prospettiva per la sua capitale? E' il rischio che si sta correndo in Italia in queste settimane. Si comincia a conoscere un po' di più delle intenzioni del governo sull'utilizzo delle risorse europee. Grazie alla diffusione dell'aggiornamento del piano nazionale di ripresa e resilienza, che non ha un nome particolarmente attraente e felice, perché non possiamo chiamarlo piano per la prossima generazione usando il nome del programma europeo e individuando chiaramente i beneficiari. C'è una prima suddivisione fra le sue grandi missioni. Leggendolo si trovano anche indicazioni di massima sui progetti. Fra questi non c'è quello promesso per la capitale. Ma intanto il mattino di Napoli e quindi il giornale della campagna Renzi vuole la crisi. Conte resiste. È chiuso il fronte con il Movimento 5 Stelle sul MES. Si accende lo scontro sulla gestione del recovery. Il leader di Italia Viva punta sul rimpasto. Metà partito democratico favorevole al cambio di alcuni ministri. E poi vedete una notizia che riguarda proprio la campagna. Vaccini. La campagna è pronta a partire già il 15 gennaio. Se i Democratici e 5 Stelle vogliono fare un passo avanti. Premier sotto assedio. Massimo Adinolfi prova a fare il punto della situazione. E intanto la fidanzata di Berlusconi aiuta la maggioranza. La fascina assente. E naturalmente questa è una fotonotizia. Così come una fotonotizia è quella della Covid che fa piangere anche Merkel in Germania. Il lockdown di Natale. E chiudiamo con il quotidiano del sud dell'altra voce dell'Italia. Il giornale della Calabria. Che titola all'Italia manca una visione. La missione politica e la governance che non si vedono. Serve una struttura tecnica di qualità che operi come un corpo unico ma dentro l'amministrazione dello Stato e all'interno della programmazione del Paese. Continuiamo a privarci di un luogo di pensiero strategico capace di ragionare su investimenti a dieci anni. Una volta questo luogo era la Banca d'Italia. Oggi come allora potrebbe essere preziosa ma nessuno chiede niente perché si è troppo impegnati a sopravvivere in una navigazione a vista tra veti e controveti. E poi fondi per lo sviluppo. L'Europa mette i paletti alle regioni. Il 30% in green. Il resto nel digitale con priorità al sud. Una priorità che poi vedremo se sarà mantenuta oltre che nelle parole anche attraverso i fatti concreti. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo quest'oggi. L'appuntamento resta fissato per domani. Stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.